Signor sindaco, presidente e sindaco presenti, subito, tutto ciò che è stato detto, c'è da darmi venire a tutti, che tutto rimanga in oceano, che è possibile che il sindaco e la sua amministrazione non hanno un'idea, non hanno nulla da dire e non hanno un conteggio ancora nulla da fare, e che tutto ciò che è stato detto in casa di l'elettorato, come di lanciare la città, di spermiare i nomi, di chiare il lavoro, è stato solo propagandato. La ragazza è trovata sul manifesto, è stata dipendente in via di qua, in questo certo ciò che si dà parte della destruzione di dire che il mio marco di sperimentare è una cosa che è stato detto, mentre certamente al prossimo minuto vengono solo assi, e noi ci siamo iniziati a dire che il sindaco, che va anche contro la legge, sulla questione del procedimento, nella quale non cederò, perché correttamente è stato detto un po' da tutti i poteri che mi hanno segnato. L'avvento che io faccio è un po' da tutti i giorni, che potremmi dirà, produzione un altro, e magari, se non è il terreno di squadra, con le conoscenze del squadra, se l'avete detto tutto, ai primi di luglio, probabilmente hanno avuto questa data che, magari la maggioranza, ci sarebbe la vita che fa, il tendimento di che c'era di sempre caldo. Oggi, pure riconosciendo che il risultato va cambiando, e noi cominciamo il sindaco che, sicuramente non è nulla, non è nulla, non è nulla, perché le mani delle persone. Però purtroppo, quando c'è il sindaco di humanità, bisogna accettare un po' di più, e anche 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 un po' di più. Mi amascio un po' a qualcosa che è stato detto, dal sindaco che sarà, dove le battaglie per il gran fuoco, in quanto l'uomo commerciale, e per quanto ci basta un punto, e per il modo reale, sia per la vicenda, come la possibilità, che la connaccio tutti, perché è l'unica che è lucida, e abbiamo per possibilità che le imposte da lì, che se la disattivano, è l'unica. E poi è concluso, semplicemente, nel senso che il è un po' di più, e mi chiedo, per quanto ha venuto i ragazzi, con tutti i trangenti, e ciò, quando non mi nega, si può lavorare, ma tutto lo stesso, se lo ha iniziato. Capito, c'è l'acqua. Capito, c'è l'acqua, c'è l'acqua che si può lavorare, se lo ha iniziato. Capito, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua del mondo. La città ha scritto una politica sana, ha scritto un giudice, ma un giudice che a tutti i nostri stati del potere, del voyaggio di valente, questo deve indicare un po' che ha fatto, perché il potere significa potrà andare a dare il potere, questo è la sua faccia. Questo non ha scritto argomentiche, ma la città ha scritto un giudice, di politica e non per la politica. Non è un giudice che la politica è un beneficio della città, e sulla quale un giudice dovrebbe isolarsi, dando il massimo contributo, perché il futuro appartiene effettivamente a chi riesce a dare la verità delle risposte. Se poi, ricorda a queste risposte, vogliamo gelare la rossa tracosia di potere, oppure avere chi ci protegge dall'altro per fare le caratteristiche politiche, valutazione non è più politica che semplicemente con le persone che hanno dei nostri problemi, con le quali non consentito a nessuno di poter usare questo messo che è detto mille e picciardi. Grazie. Grazie. Grazie.